un poeta che io non ho mai capito soprattutto per una cosa come fa un poeta produrre tutte le opere che ha prodotto rainbow e poi a 21 anni non scrivere più nulla non comporre più nulla come si fa amare la poesia e poi ad un'età ancora giovanissima abbandonarla del tutto capisco quando un poeta invecchia e ormai la sua vena diventa sterile diventa stanca capisco quando ci si amara però non riesco a intendere un poeta che evidentemente ama la poesia ama l'arte come faccio a un certo punto mettere l'arte da parte e diventare commerciante commerciante un po' di tutto ma soprattutto di armi qualcuno ha detto anche di schiavi ma non abbiamo la sicurezza di questo dato fu allevato molto severamente dalla madre abbandonata dal padre quando rainbow aveva appena sei anni e tutta la famiglia conobbe la povertà tuttavia rainbow si distinse per la sua altissima precocità soprattutto nella composizione diversi anche latini dall'età di dieci anni poi abbiamo anche un precettore più un precettore maestro che lo invoglia per questa strada anche se altri maestri ebbero a valutare il carattere di rainbow e a dire farà una brutta fine questo ragazzo altri ancora a sostenere questo bambino o farà delle cose meravigliosi o delle cose diaboliche il carattere si manifestò fin dai primi anni di scuola difficile ribelle contro la famiglia le convenzioni la morale la religione portato all'avventura la fuga tentata già nel 1870 verso parigi fino ad accogliere favorevolmente la devoluzione del 70 alla comune quindi tutto ciò che si proponeva allora come contestazione dello status quo delle tradizioni di quel conformismo così definito in modo generale assoluto dello stesso rainbow viene contestato e non peraltro rainbow appoggerà l'esperienza della comune contrario dunque alla monarchia di napoleone terzo e salutò con gioia la sconfitta nello stesso tempo abbandona la sua ammirazione per i parnassiani prima seguiva questa poesia caratterizzata qui da alcuni elementi fondamentali no i parnassiani avevano adottato il disimpegno politico l'impassibilità il rigore formale egli in un primo momento continuerà a utilizzare questa forma ma senza tanti scrupoli utilizzerà questi versi deformando l'obiettivo lo stile no più che lo stile il canone dei parnassiani e utilizzandolo per le sue composizioni satiriche e scandalistiche nel 70 abbiamo diverse composizioni poetiche io ho direi messo in evidenza una di queste o felì quest'offelia che personaggio di shakespeare che non è però intesa come una pazza come una folle ma come una veggente che dopo aver colto grandi segreti grandi visioni proprio da questi grandi segreti da queste grandi visioni viene annientata è il ruolo che vorrebbe rivestire rainbow e che secondo nebo dovrebbe rivestire ogni poeta disprezzando tutti quelli che non sono riusciti a cogliere queste grandi visioni queste questi grandi segreti siamo sempre nella prospettiva del decadentismo però siamo lontani anni luce rispetto un pascoli al buon pascoli qui abbiamo un poeta maledetto che si rivela in tutte le sue perversioni che poi vedremo ho riportato felì ho messo in evidenza alcuni concetti laddove proprio la poesia intesa come una visione e una visione che attinge su segreti imminente mente spaventosi e grandi terribili pensate a questo bianco fantasma dolce folia attenzione di nuovo con dolce folia non intendiamo pazia non parliamo di un folle ma parliamo di un veggente quindi di colui che riesce a spezzare le catene in cui noi ci troviamo e attraverso delle esperienze alternative vedremo quali sono riesce a trovarsi in sintonia con questa natura che è simbolo che è sinonimo di mistero vedete qui c'è tutta la natura la natura che parla che si muove che fa di questa ofeglia notate anche tra parentesi che abbiamo ancora un verso composto addirittura con rime preciso felì folì noir suar non siamo ancora arrivati alla frantumazione del verso di cui parleremo in seguito vedete qui il vento che bacia sono tutte prosopopè il seno distende a corolle sui grandi veli salici fruscianti piangono sulla sua spalla sulla grande fronte a sognare si inclinano i fuscelli questa ofeglia che ormai ha stabilito un rapporto ben preciso con tutta la vita della natura la natura che non mi guardano fra le non mi guardano nel e si confetti le non mi guardano Le ninfe sfiorate, lontano che dorme, il fremere di ali, il canto misterioso che scende dagli astri d'oro. Vedete la partecipazione di tutta la natura. Una prospettiva completamente alternativa alla poesia tradizionale. Opale, Ophelia, belle come la neige, oui, tu mourus enfant par un fleuve, fleuve emporté, ce que le vent tombant del grand monde norvege t'ave parlait tout bas de l'âpre, liberté. Questa Ophelia che è rapita da un fiume, i venti che piombano dalla grande Norvegia, questi venti che parlano e ti parlano di una libertà aspra. Ecco, la liberté, quella libertà di cui parla Rimbaud, ma è una libertà che fa soffrire. Perché per acquisire questa libertà bisogna respingere tutta una tradizione di cui abbiamo già detto. E la libertà pesa sulle spalle di chi ha fatto questa scelta così impegnativa. Di nuovo questo animo sognante che riesce ad ascoltare col suo cuore il canto della natura e sa interpretare. Le voci della natura, i gemmetti dell'albero, i sospiri della notte. Ce che la oia dei merfoli, immensa rale, brisè ton senso d'enfant, troppo humain e troppo dù. Ce che un mattin d'avril, un beau cavalier palle, un povre fù, s'assi muet a tes genoux. L'urlo dei mari folli, di nuovo. E un mattino d'aprile, un bel cavaliere pallido, un povero pazzo, si sedette muto ai tuoi ginocchi. Chi è questo cavaliere pallido? Forse Rimbaud, che vuole cogliere l'eredità di Ophelia. Vuole anche lui entrare in questa dimensione. Ciel, amore, libertà. Quel rêve, oh povre folle! Tu te fondai a lui come une neige au feu. Tes grandi visions Il ranglet ta parole E l'infinite rible E ferraton oible Eccoli qua I riferimenti di Rimbaud Cielo Amore Libertà Quale sogno, oh povera folle! E' un sogno? Forse sì Anche perché vedremo nell'ultima lettura Della sua opera Che Rimbaud riconosce che tutto questo forse è stato un sogno Senza alcun significato Le tue grandi visioni ti strozzavano le parole Ma anche perché Ripetendo quello che abbiamo riferito all'inizio Queste visioni Uccidono Distruggono Annientano Sono troppo grandi Per un povero cuore Che diventa pazzo Per tutto quello che ha dovuto ricevere Come se un secchiello dovesse ricevere tutta l'acqua dell'oceano Allora In questo lungo peregrinare Visse tra esperienze di ogni genere Senza eludere Alcol Come abbiamo già detto tante altre volte Droga Carcere Scappato infatti ancora una volta a Parigi In quei giorni i convulsi Si entusiasmò per la comune L'abbiamo già detto Viaggiò a piedi Senza soldi Attraverso la Francia In guerra E fece vita da strada Da vagabondo Accolto un po' dall'uno Un po' dall'altro Quell'ora che cominciò a leggere A conoscere i poeti cosiddetti morali Come Baudelaire e Verlaine E conobbe Verlaine Di persone L'abbiamo già affrontato Verlaine Con quest'ultimo Ebbe poi una lunga e appassionata storia d'amore Talmente difficoltosa e lacerante Che nell'estate del 73 Durante un soggiorno in Belgio Verlaine In uno stato di ubriaca francesia Perché si ubriacavano E andavano in giro assieme Così In queste pazzie Senza meta Mentre Verlaine aveva abbandonato la moglie Ferì l'amico ad un polso E venne incarcerato Verlaine Ferisce Rimbaud Ma l'influenza più duratura di lui Fu indubbiamente quella di Baudelaire Con Verlaine Inizia a questo punto La composizione di questo poema Illumination Che è un poema in prosa Queste illuminazioni Saranno arricchite in seguito Da altre composizioni Nel 74 Nel 75 Verlaine Noi sappiamo Che tenterà Verlaine entra in un periodo di conversione Al cristianesimo Tenterà di convertire Rimbaud Ho scritto Baudelaire Ho sbagliato Rimbaud Ma non ci riuscirà Addirittura Rimbaud Si dà all'alchimia E all'occultismo E incomincia a celebrarsi Come profete santo Di una nuova poesia E qui scrive Le lettere del veggente Dove Elaborò La sua poetica La poetica Di cui dovrebbe Alimentarsi un artista Che si fonda Sulla confusione Dei sensi D'altra parte Droga Alcol Alchimia Occultismo Per Rimbaud Baudelaire Fu il primo veggente Un vero dio Però La forma Adottata Da Baudelaire Dice Rimbaud E' meschina Non riesce A cogliere Nella sua Imbrigliatura Letteraria La nuova poesia Quella poesia Di cui abbiamo Parlato con Ophelie Che va Alla scoperta Dell'ignoto E che evidentemente Esige nuove forme La stessa cosa Vale per Verlaine Con il titolo Di Dernier Vert Si raccolgono Diciannove poesie Scritte da Rimbaud Nei suoi diversi periodi Di associazione Con Verlaine Praticando il metodo Appunto Della Wayans Nella confusione Dei sensi Questa visione Nella confusione Dei sensi E coltivando Le allucinazioni Secondo quanto Gli stesso Ci informa Nella seasona Inferno Sappiamo che è l'opera Più importante Dell'autore L'ultima Una parte Dei Dernier Vert Segnano una rottura Con l'opera precedente Rimbaud Ecco la novità Insiste Su questa cosa Basta La letteratura Basta La tradizione Basta Le rime Che non ci permettono La libertà del verso Basta La costruzione sintattica Io devo Adottare Una Una sintassi Una morfologia Una Un lessico Una punteggiatura Che deve Essere Espressione Di questa Capacità Di vedere Di queste Allucinazioni Le quali Uniche Ci permettono Di cogliere Quello che io Chiamo sempre Per sintetizzare Il numero Il vero Ricordatevi Già questo L'ho detto Con Baudelaire Con Verlaine Ricordatevi Che siamo arrivati Al momento Della decadenza Quando Cioè Non soltanto La fede religiosa La fede tradizionale Cristiana Era venuta meno Ma era venuta meno Anche La fede Nella ragione E la fede Nella scienza Per cui Si attinge Nell'irrazionale Per far questo Ecco Rottura Con l'opera precedente Rebonsi Espressi In modo semplicissimo Li vediamo qui Alcune Due poesie Attraverso Assonanze Parole vaghe Frasi infantili O popolari Tutto diventa Tenue Sfumato Gracile Desile Sono abbandonati Sarcasmo Inventive Tutto è Interiorizzato Tensione Che è frantumato Il verso Annullata a volte La punteggiatura Le lettere Diventano Suoni Colori Un esempio Eccolo qua Elle est Retrouve Qua L'eternité Se l'avere Aller Avec Le soleil Sembra Di leggere Una Poesia Di Ungaretti Oppure Memoire Memoria Ah La pudra De sol Quine Elle Secure Le rose De roseau De longtemps Devorer Mon canot Toujour Fix E Et sa Sentire Au fond De ce Tei Do Saint Bordeaux A quel Bu Vedete le immagini Non c'è più Un discorso logico Non c'è più Una successione Concettuale Ma immagini Da impressionismo Totalmente Affogate Nell'irrazionale Ah La polvere Dei salici Che un'ala Scuote Un'immagine L'altra Le rose Dei roseti Da tempo Divorate Un'altra Il mio canotto Sempre fisso E la sua catena Tirata in fondo A questo occhio D'acqua Senza sponde Verso Quale fango E' evidente Che poesie Di questo genere Implicano Un'interpretazione Io non mi ci metto Però Bisognerebbe riuscire A capire Se poi Rimbaud Vorrebbe Una Interpretazione O Se Concettualizzare Queste Sue Visioni Vuol dire Non capirle Esasperarle Svuotarle Di quello Invece Che Rimbaud Ci vuole dire Ma voi capite Che una Prospettiva Di questo genere Che senso ha Se tutto è fatto Di suoni Leggerlo In italiano Poesie Di questo genere Devono essere Lette in lingua Perché anche I suoni Anche le cadenze Anche le assonanze Le dissonanze E le letterazioni I richiami Gli eco Possono essere Colti solamente Nella lingua originale La traduzione Fa perdere Il 50% Dell'arte comunicativa Della poetica Di Rimbaud 1873 1875 Al ritorno Alla propria casa Rimbaud Completa Quello che fu considerato Il suo capolavoro Una stagione All'inferno Quello che Aveva definito Rimbaud Il libro pagano E il libro nero Un poema In prosa Che cos'è l'inferno L'inferno È la società occidentale Cristianizzata Nella quale Rimbaud Si trova a vivere E che odia E il racconto Del suo tentativo Di uscirne Verso una originaria Condizione Barbarica E pagana Alla condizione Primitiva Del buon selvaggio Di Rousseau Vi ricordate Il buon selvaggio Di Rousseau Quel mito Dopo che Gli europei Avevano conosciuto La vita Dei Selvaggi Americani Ed era un mito Perché Se noi solo Pensiamo Agli Agli abitanti Della 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 Centrale Meridionale Inca Stekimaya Noi sappiamo Che non era Così innocente Alla loro vita Non è che non ci fossero Leggi Non ci fosse Un'organizzazione sociale C'era addirittura Un vero e proprio Schiavismo C'erano Dei sacrifici Di esseri umani Quindi Era esclusivamente Un mito Pensare che Queste popolazioni Si sono mai Fate guerra Una con l'altra Ma era il mito Portato in Europa Nel 1700 E riproposto Di nuovo Da Rimbaud Quindi Rimbaud Ritiene Di dover Allontanarsi Da tutte Queste Da questi Orpelli Compresa L'orpello Della letteratura E Vivere Libero Innocente Senza Un'organizzazione Sociale Senza Leggi Senza Costumi Religione Guerra E tutto Quello Che Gli europei Avevano Imposto Ai popoli Autocno Della Della America Sarà Rifiutata Anche La letteratura In un certo Senso Rimbaud È abbastanza Coerente A questo Proposito Perché A parte L'ultima Opera Proprio Questa Stagione All'Inferno Non si preoccupò Mai Di far Stampare Le sue Poesie Alcune Delle quali Si Era Anche Preoccupato Di Distruggere Però L'ultima L'ultima Opera Una Stagione All'Inferno Sarà Lui Per primo A A volerla Pubblicare E forse Rimbaud Non si è reso conto Ma è un po' difficile Che non si sia reso conto Perché certamente Non era stupido Sembra che non si sia reso conto Che nel momento stesso In cui Io faccio pubblicare Una mia opera Faccio entrare Quest'opera Nella letteratura E quella letteratura Proprio Che ha Che Rimbaud Ha respinto Oggi celebra Rimbaud Come uno Se dei maggiori Rappresentanti Del simbolismo Un passo Ho riportato Qui Della stagione Una stagione All'Inferno Importante Direi Per la Poetica Vedete Era poetica Di nuovo Ho colto Secondo me Queste Espressioni Che Sono importanti Poeta Si fa Veggente Mediante Una Sregolatezza Di tutti I sens Tutte le forme D'amore Di sofferenza Di follia Il Cerche Lui Meme Il Epuis Enrui Tut Le Poison Pour Non Garder Que Le Quinta Sense E Di cerca Se stesso Egli Esaurisce In lui Lui Tutti I veleni Avete capito I veleni Di cui abbiamo parlato Sesso Droga Eccetera Eccetera Bisogna Entrare In questo tunnel Per Diventare Veggente Nella Sregolatezza Di tutti i sensi Per non Conservarne Che La Quinta Essenza Quella Quinta Essenza Cui Sono Preclusi I Comuni Mortali Ineffable Torture O Il Ha Besoin De Tulla Foa De Tutta La Forza Su Lui Mene O Il Deviene Entre Tous Le Grand Malade Le Grand Criminale Le Grand Maudit E Le Suprême Savant Ineffable Ineffabile Tortura L'abbiamo Visto Inofili Quanto Questa Conoscenza Sia Terribile Al punto Di arrivare A schiantare Chi L'accoglie Ineffabile Tortura Dove Egli Ha bisogno Di tutta La fede Di tutta La forza Sovrumana Dove Egli Diventa Fra tutti Eccolo qua Il grande Malato Il grande Criminale Il grande Maledetto Ma Il supremo Sapiente E qui La fine Della sua Esperienza 1875 All'età Di 21 anni Arthur Rainbow Smise di scrivere In una Stagione Di inferno Così anche Termine L'esperienza Poetica Di Rainbow Che iniziò La sua aventura In Africa Cominciò A commerciare Di tutto Anche Armi C'è chi Parla pure Di schiavi Ma non Se ne ha La prova Certo Rainbow Si è ricchi Ma la malattia Lo costrinse A ritornare Dalla sua Odiate Europa Dove morì Di cancro Al ginocchio Nel vorge Di pochi mesi Questa è la conclusione Sostanzialmente Di questa grande opera Che fa Meditare Perché Sembra che Rainbow In qualche modo Riconosca Il suo fallimento Ho cercato Di inventare Nuovi fiori Nuovi astri Nuove carni Nuove lingue Ho creduto Di acquisire Poteri sovranaturali Ebbene Devo seppellire La mia immaginazione E i miei ricordi Bella gloria Di artiste Di narratore Andato in malone Io Io Che mi sono detto Mago Angelo Dispensato Ad ogni morale Eccomi qui Steso al suolo Con un dovere Da cercare E la rugosa E la rugosa realtà Da stringere Mi folco Difficile interpretare Queste parole Io Come ho già detto Ante volte Non riesco a entrare In sintonia Con questi autori Però lascio a voi Lascio a chi mi ascolta A valutare No? Il giudizio Che dà di se stesso Rainbow Rainbow Un po' come Quei personaggi Di D'Annunzio Che alla fine Nescono sempre sconfitti Ricordiamo ancora Due cose Che sono importanti Rainbow dunque Teorizzò Una coscienza Con coscienza lucidissima La tesi del poeta leggente L'abbiamo già detto Capace di pervenire Per mezzo di uno Sregolamento In tutti i sensi Una visione dell'ignoto Che è nel contempo Visione dell'assoluto Rainbow Ricordatevi Rifiuta l'Europa Ne ha disgusto E il rifiuto Include anche se stesso La propria formazione Ed estrazione Rainbow Dicono i critici I più grandi interprete Poetico Della crisi decadente Perché è crisi decadente? Perché questa crisi Di cui ho già detto I tre valori Tradizionali Fede cristiana Ragione E scienza È sentita Sembra che sia sentita Ma nessuno La canta In modo adeguato Beh ci sono Degli autori Che l'hanno cantata L'hanno espressa In modo adeguato Ma non in modo Così esplicito E drammatico Come l'ha fatto Rainbow Boh La sua poesia Perciò Per questo percorso Diventa oggetto Di interpretazioni Divergenti Ora interpretata Come inconsci L'anarchio verso Un Dio sconosciuto Ora come consapevolezza Dell'inutilità Di tutta una tradizione Rifiutata Ora Opera di distruzione Sotto l'istanza Di libertà Contro Ogni istituzione Compresa la letteratura Quindi che cos'è? Un novello mistico? Che cos'è? Un anarchico? Che cos'è? Un rivoluzionario? Claudio Wendt Rimbaud È stato un mistico Un rivoluzionario Un anarchico Come è possibile Definire A lettere cubitali Un'esperienza Di questo genere Un'esperienza Da leggente Un'esperienza Che parte Da uno Sregolamento Di tutti i sensi Ognuno Su quest'opera Si può Leggere Evidentemente Tutto quello Che vuole